Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 20 marzo, ancora bel tempo su quasi tutta l'Italia, anche se le perturbazioni atlantiche per merito dell'anticircolone dell'Azorico incomincia ad abbandonare la penisola, bene dicevo le perturbazioni atlantiche si avvicineranno al nord Italia, attivando sulle regioni tirenniche venti di libeccio e quindi venti che porteranno nuvole soprattutto sulle regioni tirenniche e sul nord Italia come potete vedere infatti vedete nuvole sulle Venezie, sulla Liguria, sulle regioni tirenniche sull'Umbria e sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature c'è una novità finalmente le temperature che fino a domenica erano di gran lunga al di sopra della media al centro nord incominciano a scendere, quindi le temperature resteranno ancora al di sopra della media ma incominciano a portarsi su valore quasi normale. Bene termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.